Allineamento che va ad ultimarsi. Un po' distanti l'uno e il due che la prendono con un po' di rincorsa. Si entra qui in retta per la partenza. Si va con Flinka RG che cerca di scavalcare Feeling Model. Partita alla grande, lotto di Florevers. Bene anche il numero sette di Falcor Moon. Cavalli sulla prima curva con Florevers che va subito ai lati di Flinka RG. L'attacca dopo 200 metri di corsa. 14,6. Passa Florevers. Spende tantissimo ma è al comando. In seconda posizione Flinka. In terza l'uno di Feeling Model mentre Falcor Moon abbandona la corda e viene via. 30,5 per i 400. Florevers, Flinka, Feeling Model, allargo Falcor Moon. Flora Moon. Viene via il 4 di Flash B parato da Falcor Moon. I due che avanzano per linee esterne con Florevers che qui davanti alle tribune si vede avvicinare da Falcor Moon. mentre galoppa Flash B. Gli 800 in uno, due e mezzo. È riuscito un po' a fare i propri comodi. Florevers su Falcor Moon. Di dentro Flinka RG. Poi in terza posizione c'è Feeling Model. Allargo il 5 di Fulmine Fass. E ora Falcor Moon si muove con azione più redditizia ai lati di Florevers. Lo attacca a fondo a palo lontano. Mette anche una incollatura davanti all'avversario. Florevers che cerca di rientrare. Flinka RG che ora abbandona la corda e si fa bucare da Feeling Model. Si entra sull'ultima curva con Falcor Moon rientrato completamente da Florevers. Ma sprint a largo di tutti Luigi Cuozzo e Flinka RG. Non sa dove andare l'uno di Feeling Model. Si entra in retta d'arrivo con Florevers che è attaccato e superato da Flinka RG. Poi vediamo Figaro Sbi mentre il numero 1 di Feeling Model è attaccato a largo di tutti dal numero 10 di Fiona Jet. Zona traguardo. 2, 12, 10. E l'ordine di arrivo con Flinka RG. Una regolarissima allieva di Luigi Cuozzo che chiude il percorso in 1,17 circa. la viene a vincere con uno spunto secco nei confronti di Figaro Sbi e Fiona Jet. È tutto per la quinta corsa. Linea alla regia. Grazie. 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 Grazie.